La sala consigliare del Palazzo Comunale ospita una mostra di Dario Grasso, una mostra naturalmente particolare, diversa però per tutti i gusti, per tutte le età e per chi ha anche una certa curiosità. Sì, per noi è un grande motivo di orgoglio avere questa sala consigliare che è adibita alla presentazione della mostra delle opere di Dario Grasso. Sono orgoglioso anche perché in quanto un artista concittadino siamo orgogliosi di quanto Campobellesi avere un artista che riesce a realizzare queste opere. L'occasione, oltre a ringraziare l'artista, voglio ringraziare chi ha consentito di curare questa mostra che è l'architetto Lillo Brunetto e il geometra Angelo Monachello perché solo attraverso la sinergia e la disponibilità e anche a titolo gratuito questo è essenziale perché si riesce a fare queste cose per il nostro Paese. Quindi con un grande spirito di servizio e questo vi dico un ringraziamento di vero cuore. Quindi oltre a questa mostra vedremo anche le performance che farà l'artista sia alla Divina Commedia che anche in piazza.